Perché se non ci fosse stato Salvini che fermava le navi, non ci sarebbe stato nessuno in Europa che si metteva lì a trattare. E quelle persone sono state salvate per volontà politica del governo precedente nelle acque maltesi. Malta, quando c'eravate voi la volta precedente, se n'è sempre fregata. E finché non si sono messi, anche Conte, finché Conte l'ha rivendicato, non si è messo lì a fermare le navi, ed era la sua volontà politica, l'Europa se ne fregava. Allora, insomma, la sostanza è questa, Boldrini. Quello di Malta è grazie a quella roba lì. Quella strategia di Salvini ha portato dei frutti di cui state godendo voi oggi, in qualche maniera. Loro hanno fatto il lavoro sporco, mi si consente il termine, i vantaggi, cioè la riduzione dei flussi verso l'Italia, stanno continuando adesso per merito di Salvini. Beh, allora, Formigli, io penso che la diversità tra la Morgese e Salvini sia evidente a tutti, tranne a Borgonovo, che evidentemente non gode... Che uno è un uomo e uno è una donna, ma le leggi di Salvini sono ancora lì, sono ancora lì. Però io posso parlare... Tant'è che il PD oggi a Roma, in Lazio, fa... No, visto che mi chiami in causa, visto che oggi il PD fa i manifesti... Borgonovo, ti non mi dà fastidio, forse dà fastidio a lei... No, Borgonovo, si abitui alla democrazia... No, Borgonovo, si arrabbi quando ti interrompe Marianna Aprile, poi interrompi pure tu. Usate le stesse regole, dai. Io sono stato chiamato in causa dalla Bolderini. Allora, questo è il classico esempio di intolleranza verso chi ha un'idea diversa. Borgonovo, io l'ascolto sempre con interesse. Lei dovrebbe imparare a fare altrettanto, perché se lei non mi consente di parlare, già dimostra chi è, si autopresenta, diciamo, si qualifica. Allora, stavo dicendo che la differenza tra la ministra Lamorgese e il ministro Salvini è lampante a tutti. Mi sembra evidente la differenza dello stile. Salvini esponeva i migranti fino a che questo gli faceva comodo, anche quando aveva delle offerte di ridistribuzione non le accettava. E lo dico, Formigli, perché mi è capitato di fare una visita istituzionale con la Commissione Estera in Germania, a Berlino, al Bundestag, ed era il periodo appunto della Sea-Watch 3. Parliamo di giugno, 24-25 giugno. Facciamo questo incontro istituzionale, i tedeschi ci dicono ma noi abbiamo già offerto disponibilità. Ci sono 50 sindaci che hanno palesato il loro interesse a ridistribuire migranti. Parliamo di Carola Rachete, quella imbarcazione lì. Salvini questa offerta la tiene per sé e non prende atto che c'è la disponibilità, perché a lui non interessava la ridistribuzione, ma tenere quei migranti, quei naufraghi, in mezzo al mare per poter alzare il prezzo, il riscatto verso l'Unione Europea. La Morgese non chiede il pagamento del riscatto. Chiaramente io preferirei che anche oggi quelle persone salvate in mare possano subito essere sbarcate, poi le operazioni di identificazione... Non mi piace che rimangano a bordo prima della ridistribuzione.